Rinforzi in arrivo per la questura di Arezzo. Una notizia che arriva direttamente dal Ministero degli Interni ad ufficializzare la decisione il sottosegretario Nicola Molteni. L'arrivo sarebbe previsto per il prossimo dicembre. Una notizia che arriva a poche ore dal ventunesimo colpo messo a segno da inizio 2024 in un'azienda orafa del comparto Aretino. Un assalto ad alberoro consumato con estrema destrezza. La banda infatti per broccare il traffico aveva utilizzato mezzi rubati e poi in soli sei minuti aveva fatto razzia dell'argento trovato sui banconi. In azione almeno sei banditi, tutti a volto travisato, con tute bianche e probabilmente occhiali con visore notturno. Il tutto eludendo il sistema di sicurezza di ultima generazione recentemente installato. Insomma, un colpo da veri professionisti, il cui bottino con ogni probabilità è superiore ai 100 kg d'argento. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri, ma intanto cresce l'allarme dell'intero comparto. Io faccio un appello al Governo centrale affinché ci mandano delle forze speciali, ma l'esercito serve qui per presidiare il territorio. Un mese, due mesi, tre mesi, quanto basta per interrompere questa escalation di furti che non si può più sostenere.